Allora Runei Pro SNAI, so che gli organizzatori ci tengono su questa locandina che ti hanno fatto personalizzata quindi dimmi tre secondi, una storia su sta locandina La Madonna della Laguna, la mente malata di Pizzo originaria era la Madonna del Lago, Madonna del Lago di Campione però sposandosi con Venezia hanno dovuto per forza traslare L'ha remixata lui e per farlo contento teniamo l'abbandono della Laguna Tutto il Team Pro SNAI c'è, più o meno tutti, quasi tutti state facendo il torneo tutti insieme quanto sarebbe bello arrivare prima degli altri perché sennò pochi li stai a sentire dicono che sia il più scarso, non è possibile Questo anno il Team SNAI ha fatto pochi risultati quindi speriamo di svegliarci, diciamo che chi arriva sono felici tutti non c'è rivalità Grazie a tutti